questo qua si chiama tiro della candela vedi che sembra una specie di candelone si va tutto umido o no? tipo nel cammino ma qua all'inizio è un po' umidino ma non è male ovviamente siamo girati un po' a nord è bello perché è riparato dall'aria no? si vedi quando io voglio metter dentro passo così e quando la chiudi quando torli via tutto non serve che la hai chiusi se no dopo livi solo ok perfetto quello sono io qua ti metto il solito rinvio da recuperare andiamo via con un filo di dare lo facciamo così e così ok perfetto ok grazie